Papa Francesco ha ricevuto questa mattina in udienza il Governatore Generale di Antigua e Barbuda, Rodney Williams. Durante il colloquio, riferisce la Sala Stampa Vaticana, sono state sottolineate le buone relazioni bilaterali rafforzate negli ultimi anni dalla nomina di un ambasciatore presso la Santa Sede. Nel proseguo della conversazione ci si è soffermati sul contributo che la Chiesa Cattolica offre alla promozione della tutela della dignità della persona umana, nonché nei settori dell'educazione e dell'assistenza ai più bisognosi, auspicando una proficua e mutua collaborazione. Infine sono stati toccati alcuni temi di rilevanza regionale e globale, con particolare riferimento ai flussi migratori e ai cambiamenti climatici.